Eccoci qui come state, un saluto a tutti, ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, ci avviciniamo alla partita senza grandi novità di formazione, ma la novità c'è stata oggi. Voi direte, sì vabbè il calcio è un'altra cosa, il campo ok, ma ci dà la misura di quanto questa dirigenza sia meno e freghista anche nei rapporti. Il pranzo UEFA, c'è sempre il pranzo UEFA, la dirigenza, padrone di casa, ospite al ristorante, la dirigenza che invece è ospite appunto della partita, momento di cordialità, di fair play, anche di rapporti, c'era Florentino che era atteso, però poi il Milan fa sapere no, non viene Scaroni, non viene Furlani, non viene neanche Ibraimovic, moncada figurati. Mandiamo due dirigenti del commerciale, come se il commerciale fosse la cosa più importante che ci sia in una gara come oggi Real Madrid-Milan. Di fatto quindi Florentino Perez non ci va, ci va il vicepresidente, ci va Butraghenio e alla fine il Milan ci fa brutta figura. Il calcio oggi è fatto anche di rapporti, tu intanto fai brutta figura, poi non è che stai andando con la dirigenza del Bellinzona con il massimo rispetto, il Real Madrid. Gagliani si sarebbe presentato due ore prima all'appuntamento con Florentino Perez e i nostri fenomeni manco si presentano. Cioè davvero c'è sempre una cosa nuova che si aggiunge alla serie e tutto dimostra una totale inadeguatezza e non capiscono neanche dove sono e neanche la forma salvano, davvero senza parole. Senza parole è un ennesimo episodio scandaloso, poi sì il campo è un'altra cosa per carità, manchi queste cose qui e tu non è che assumi, rischi di perdere credibilità. La perdi, la perdi nei rapporti, le brutte figure, ci dovrai parlare magari con Florentino, figurati, non ci parlerai più. Ragazzi non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo proprio. Anche in queste cose qui. Apparentemente inutili ma comunque non inutili e comunque fanno brutta figura anche in queste cose. Florentino Perez snobbiamolo, vi rendete conto? Ah tra l'altro oggi c'è anche Cardinale lì eh, quindi no comment. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi qui, ditemi che ne pensate. Ci vediamo dopo partita, un saluto.